L'Indor, sudanese, uno, Frosonone, il Palermo, uno secco, l'Atalanta, Chievo, uno, Bologna, Icenua, uno, Tolino, Sassuolo, due, San Papadadoria, La Lazio, due, Fiorondina, Gioendo, due, Roma, Napolo, uno, X, Vorona, e Milan, due, Carpi, Emboli, uno secco. Con questo risultato si porta a casa uno una bella cifretta se ce la picchi a dentro.